Se questo video raggiunge 3.000 mi piace, facciamo a 24 ore solo carbonara Ciao a tutti i tuoi youtube, qui con voi e ciao a tutti i tuoi disegni e oggi siamo il nuovo video Oggi ragazzi, come te l'ho detto dal titolo, mio fratello diventerà juventino per 24 ore In questo momento non è con me, ma ragazzi, questo video vi divertirete Lasciate subito un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale Quindi per questo video tantissimi mi piace, mi raccomando 3.000 mi piace Perché? Perché siamo ritornati con i video 24 ore e ce ne saranno ancora altri Quindi un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi in questo momento al canale Seguitemi su Instagram, questo è il mio profilo E allora, oggi cosa faremo? Per 24 ore sono le 18.02 Alle 18.02 di domani finirà questa 24 ore da Juventino da parte di mio fratello Perché? Perché farà questa 24 ore? Perché praticamente abbiamo giocato una partita a FIFA C'è anche sul canale il video, però lo lascio pure a... Ma non voglio fare... Ma mi dispiace, 24 ore devi fare lo Juventino Nooo... No, 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 sì, sì, sì E praticamente mio fratello ha perso la sfida contro di me E quindi deve pagare questo pegno, deve pagare questo obbligo Quindi direi di non perderci in chiacchiere Noi siamo pronti Sono le 18.02 del 26 maggio E quindi in questo momento si sta giocando Sampdoria Juventus Che è l'ultima di campionato Ma prima di iniziare il video Volevo dirvi che alcune cose che farà mio fratello in questo video Sono state consigliate appunto da voi su Instagram dove ho fatto la storia Dicendo appunto ragazzi consigliatemi cosa deve fare mio fratello da Juventino E voi mi avete consigliato alcune cose Ma non prendiamoci chiacchiere e iniziamo Allora, ciao Cristian Ciao Senti, ti volevo dire una cosa Ma te, oggi sei juventino? E stai vedendo la partita della Juve Sampdoria Juventus Della Sampdoria Della Juve Della Sampdoria E Tifi? Sampdoria Tifi? Cosa Tifi? Napoli No Oggi Tifi Il 24 ore Tiferai? Scusa Ah? Come? Le No Non hanno sentito bene i nostri fan Dillo Come? Urlalo Juve Urlalo Juve Ok Sampdoria Juventus Quindi a fine partita noi ci sentiremo di nuovo Per questa super partita Però tu devi di fare Juve Mi dispiace A parte che ti sei Ti sei messo anche questa maglietta juventina Ma è blu E' giuventina Stai zitto Non è vero E' giuventina Quindi oggi sei juventino E basta Ti vedrai tutta la partita della Juve Dopo ci saranno altri obblighi da fare Ma lo so Ma lo so l'altro Lo so Lo sai eh Io da balcone forse Eh no no Lo sai bene A parte che me Io devo di fare Forza Sampdoria Perché a me devi segnare Quagliarella Che c'ero al Fanta Devo vincere assolutamente Al Fanta Calcio Perché mi ha segnato dei Silvestri Torino Lazio Ha segnato dei Silvestri Ce l'ho contro Mentre tu stai vedendo la partita Mi devi dire una cosa Allegri se ne va Secondo te Chi arriva sulla panchina della Juve? Questo è Sarri E questo è Quattro Secondo te chi arriva? Ecco Guardiola Guardiola secondo te? No in realtà Sarri L'ha detto pure Pure io c'ho paura che arrivi Sarri No l'ha detto pure Sportavete Se ti ho detto Il più probabile Sarri Che arrivi Te ti fa piacere eh? No Oggi si Oggi si Meglio così Meglio così Perché Sarri Non lo vince quasi mai Lo scudetto E non l'ha mai vinto Oggi si Sei costretto Mi dispiace Va va urla Fa urla forza Juve Fa Sempre E comunque Forza Napoli Forza Napoli Va Forza Napoli Sempre Sempre Qua dentro Ci dovrebbe stare Il cappello della Juve A parte c'è lo scaldacollo del Napoli Qui Eccolo qui No Ragazzi eccolo qui L'ho trovato Ciao Cristian 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 Devi metterti questo Dai mettitelo Mettitelo Solo per tutta la partita E poi te lo levi Mica lo devi tenere per 24 ore Dai No Solo per la partita Oh non devi fare Sabdoria Juve oggi Ok Ah Sei obbligato Per 24 ore Te lo devi mettere Tantadada 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 Mettitelo bene Questo cappellino Dai aggiustatelo bene Ecco così Quanto sei carino Quanto sei carino Con questo cappellino Mi devi urlare Un piccolo coro Della Juve Una piccola frase Poi dopo ci saranno altre penitenze Che ti credi che finisce qui Non finisce qui Juve Storia di una grande No 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 Devi cantarlo bene Storia di un grande No Cosa è brutto Poi Bianco che Dai Bianco che Abbraccia Bianco che abbraccia Quali sono i colori della Juve Ignorante Bianco che abbraccia Nero e bianco Com'è bianco che abbraccia Nero e bianco Bianco che abbraccia Nero Bravo Comunque noi ci vediamo A fine partita Va bene Continua così Ciao E' finita E' finita Sampdoria Juventus La tua squadra ha perso oggi Perché la Sampdoria ha vinto 2 a 0 Che peccato Che peccato Mi è proprio dispiaciuto Ti è dispiaciuto Ti è dispiaciuto tanto Ma è bellissimo Sì No No Oggi sei Oh Oggi sei Juventino A me dispiace La Juve ha perso Mi dispiace tanto 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 A me dispiace Pure che qua Le non ha segnato Mannaggia Dove la segnare Cagliadella Allora Per continuare Questa 24 ore Caro Cristian Io A fare L'esultanza Di Cristiano Ronaldo Fuori al nostro terrazzo Vabbè ma è normale Lo faccio sempre E urlare Forza Juve dopo No Sì No lo devi fare Vai È logico Il cappello Vai Tanto sto guardando Powerone grande Ciao Aspetta Sull'esultanza Di Ronaldo Ci siamo Ma ora Devi urlare pure Quell'altra cosa Forza Napoli No 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 Non vale così No no Che sì Non vale così Non vale Dai Forza Lo Juve Aspetta Non ho capito Forza Juve 24 ore Io non lo tocco Perché Oddio Ragazzi siamo qui Su FIFA Per continuare Questa 24 ore Perché Mio fratello Continua a essere Juventino Cosa farà oggi Invece Di giocare Con il Napoli La stagione Su FIFA Tu cosa fai oggi Cambiamo squadra E divisa E mettiamo Dove sei Dove sei Dove sei Dove sei Dove sei Dove cazzo sta Ah Juventus Juventus Tieni Ti fai la formazione Giochi Fai quello che vuoi Io ti lascio il joystick Ti giochi una partita Con la Juve Con la tua squadra Del cuore di oggi E va bene così Ecco a te Guarda Questo è lo sposo Metti a Bernadeschi Ragazzi lo sto facendo a casa Non so come Liverpool Juventus Spongo Se spondo Se spondo Se spondo Se spondo Ma tu di Bernadeschi No E rigore Rigore Ma gli hai rigore Lo devi battere lui Lo devi battere lui Eccolo Non puo sbagliare Finchiano Insieme Vai Falla Tu Tu Si Si Ma gli è fallo Ma si continua Io lo dà Patrici Patrici Vai 2 a 0 Ragazzi Sto vincendo 2 a 0 3 a 0 1 No Godo Non va No Annaldo C'è lui C'è lui C'è lui C'è il piano Ragazzi Ragazzi Mio fratello Ha vinto questa Fantastica Partita Da Juventino Noi ci vediamo La Serie A Ci vediamo dopo Per qualcosa di speciale Per darci la buonanotte Diciamo No No Bravo Juventino Ma già No 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 Non vuoi dormire Mi dispiace Allora Io prendo la sedia ora Ciao sedia Mi siedo Guardate il mio cazzo Di calzino Quanto cazzo È bello Allora Allora caro Prima di dormire Ti devo raccontare la favola Che favola Allora C'era una volta No La Juventus Magale A Pariwell Che stava Facendo Stava 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 facendo la partita Era tantissimo tempo fa Ed era contro una squadra Nera E blu Stanno Stanno giocando All'improvviso In area di rigore C'è un contatto Tra un signore Sia Ronaldo Nazairo E un difensore della Juventus Un rigore netto Nettissimo Ma nettissimo Non l'hanno dato L'arbitro fa continuare l'azione E dall'altra parte Del Piero in area di rigore Cade giù Per un contatto Con il difensore dell'Inter Fischiano calcio di rigore E da lì succede Il finimondo Stiamo parlando di Più di vent'anni fa Se non sbaglio Questa storia Era ancora oggi Che si racconta Cristian Questa è la favola Forza Dillo Avanti Come? Non capisco Stai coperta E t'ammazzo Forza Juve Buon'olta Ho detto Juve No Juve Allora hai detto Juve Ciao Buon'olta No Buon'olta Ciao No Non vale Non vale Ma buongiorno Buongiorno Ciao Fammi vedere un attimo l'orario Caro Sono le 16 e 06 Le 16 e 07 E la 24 ore ancora deve finire Tu sei appena tornato da scuola Tutto a posto scuola È stata una bella giornata Hai ti fatto Juve pure a scuola? No Invece si Bravo Bravo Continua così Senti Che te volevo dire Io purtroppo dovevo farti fare La sfida anche questa mattina Ma mi sono svegliato tardi Non vi faccio vedere le mie condizioni ragazzi Perché Cioè vi faccio vedere solo un piede E il piede sinistro Sono tutto grigio Col pigiama da malato terminale Quindi Veramente non vi faccio vedere niente Però 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 Allora Prima cosa Tu Dici Forza Poi ti faccio fare un altro obbligo E a 24 ore finisci alle 18 Mi dispiace Forza Napoli No Forza Forza Non ho capito Forza Sampdoria No Forza le squadre italiane Forza Juve Non ho capito Forza Juve Bravo Ragazzi Sono le 18.05 Non so se metti a fuoco Metti a fuoco Tu hai fuoco così o Vabbè Fai nello Comunque sono le 18.05 Siamo con 3 minuti di ritardo Ma La 24 ore da Juventino Per mio fratello È finita È finita Quindi ragazzi Il video può finire qua Finalmente è finita Finalmente per lui è finita Io mi stavo divertendo Vi dico la verità Mi stavo divertendo Lasciate un bel viaggio Un bel commento Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo nel prossimo video Ora puoi dire Forza Forza Ciao Ciao Ci vediamo alla prossima 24 ore Al prossimo episodio